ciao a tutti e benvenuti che stai in play è rimasto che avevo cacciato il conga l'asmeraldo e mi ha trovato qui quindi proseguo buonasera carabinieri buonasera a tutti buonasera signora e adesso prepariamoci da affrontare la prossima mission allora intanto magno cambia anche posto resistenza a fuoco gli effetti di cibo vengono in battaglia se si vengono in battaglia se voglio provvedere aumenta il senso all'acqua a volte aumenta il numero dei cavoggetti resistenza al tuono aumenta gli attacchi con lo stato saturato resistenza al ghiaccio da già alcune attacche molto grande che va bene ok vamos buonasera cacciatore buonasera signorita ehi lo so cazzare una nascilla per uscire a tirare una nascilla ok come on bene tanto e certo non rischierò di lasciate il buono anche voi non rischierò di 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 essere dai cazzo di conga da merda di di essere di essere addumentato dalla nascilla perché sono già ben attrezzato non per quello ho messo la sua armatura allora ragazzi qui ecco 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 stanza e dai ciao che fare? ma fa così però Dio furbo moreno scilla non sapere come sia ma BAM ah vuoi stanno a dormire? non ce la fai diante morte vai la foto ti prendo la scilla farm ma perchè mi sbecco? oh farm 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 è tutto pronto io a farci poco del cazzo farm farm fa male eh farm 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 che cazzo è successo? bravi ragazzi che state potendo schivare questo attacco volenoso si è gioccanso pensa lì a porco di troia sville sve 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 Madocciti che cazzo, come li fai, non usci la plan Beccato Non mi becchi Eheh Pam 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 Anche Stai impulato Merda Fammi culo Bambi ragazzi Bravissimi Mi avete curato Alito Cazzo non ha portato una cosa importante Eheh, buonanotte Un momento in cui faccio la fine del source Bambi ragazzi No Bambi ragazzi Bambi ragazzi Guale Bambi ragazzi Eheh, bambi ragazzi Ehi, dò quindi se stai andando ok sostanza reggine va bene allora intanto preferire poi dritto o non dritto mi sembra che sia andato dritto se stronzano non mi paro a vederlo vediamo se è giusto è giusto no non ce la fai già stronzata ragazzi attenti bravi dai salsu toccazza E' una bappa in culo Tocca Merda 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 Bravissimi ragazzi Se no ero fottuto Dai conga da merda Una porca puttana Via 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 Ma dai Dio stra povero Scilla di merda Nessun colpo Dai Nessun colpo Dai Non provo a raccogliere Non lo sbagliare Punto Aiuto Aspetta non si accede che inizia a fare Sto cazzo di comoda Merda Me l'affanculo Tre Tre Pote Nessun colpo Nessun colpo strong strong inti la mangiare la mangiare la mangiare la mangiare la mangiare aiuto minchia ecco la mangiare crack la mangiare la mangiare c'è non ci hai fatto quindi non riesce a mangiare l'arma non sto messo molto bene che trova che sei ma comunque la cavallena ragazzi mamma che culo del cazzo o ce la com'è ragazzi ce la com'è mi vado a far gula la scilla del cazzo una buona stronza c'è la mia guarda che cazzo vai mi faccio mancare la simbola dai coccide merda ahhh tofro tutto finito me lo faccio ma lo stesso me lo faccio ma lo stesso ma porco giuda che culo ragazzi molto culo vai te lo tu cazzo vai ti decidi cazzo a fare? no non so che cazzo vuol fare non so che cazzo vuol fare? aiuto via via paura che l'epatì che l'epatì madonna bastare che sei eh eh bravi ragazzi ragazzi non penso che siamo messi tanto male intanto si stanno messi subito l'arma non capisco cosa sia sto suono ragazzi devo combinare le azioni e poi andiamo subito da lei a seccarla stronza dai strontza dai no? no? bellissimo dai ha ha taaaang seccata aiuto aiuto ma che sedo allevato? che crack ragazzi senza difesa eh 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 sei proprio stato grezzo a fare una scilla dai con la cauti al cazzo veramente ragazzi allo stato grezzo dai con la hai rotto un po' le palle sai com'è? è stata buona ora che io ho da far fuori una bella nel scilla perchè miseria sbaglia qua quindi dovrò andare mi sa di qua vediamo se ho ragione si ma questa stronza è ancora viva beh ah ah sei che è stato bene vale jejeje non si è scuola aiuto jejeje bravi ragazzi vaia dai a riuscire il cazzo che cazzo sta facendo ragazzi se ne sta semplicemente andando aspettiamo un po' che si sistemi la signorina così sembra un po' sprecato ma comunque può essere sempre utile eccola qua la stronza adesso io salgo qua giro un po' così no forse è troppo quasi e cerco di beccarla e ho detto cazzo allora provandola qua e beccarla da qua cioè ragazzi impressionante non si è scuola beccarla sta troia due mescille da merda due mescille da merda tre vabbè avevo visto che si è tenendo da qua vediamo se è scuola e tutto cazzo vaffanculo cazzo tre 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 aiuto quindi dai stronz e dai guardi a cazzo dai guarda eh 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 dai vicino ragazzi te andiamo con tutta caronecilla non hai più speranza spiacicata al suolo senza neanche più che si potesse muovere bene ragazzi ottimo devo vedere che ce l'ha fatta la grande eh 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 tan 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 tarapampam allora vediamo un po' qua cosa c'è se mai c'è qualcosa di utile ok meglio di niente benissimo ragazzi benissimo ragazzi pam 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 allora c'è gioia artiglio più bravo di most artiglio più cesoia insetto ericos armature più due carapace punta più artiglio più carapace voi ragazzi avete l'accordo tupacchi carbalite non mi serve intoliamo pure allora si vede tutto un po' qua vabbè questo lo lascio volentieri vediamo se ha fatto qualche record no niente niente record eh e vabbè importante che la missione sia andata liscia come l'olio e abbia fatto anche presto bene ragazzi questo mi piace qui e ci siamo al prossimo ciao a tutti